Nome. Gary Ridgway. Soprannome. Green River Killer. Numero vittime. 48. Modus operandi. Strangolava le sue vittime, segni di necrofilia. Gary Leon Ridgway nacque il 18 febbraio 1949 nell'Outa. Nel 1960, quando Gary aveva 11 anni, la famiglia si trasferì nello stato di Washington. La casa dei Ridgway aveva dietro di sé una strada e davanti una piccolo bosco con grandi alberi ed arbusti. La casa rimase di proprietà della famiglia per 41 anni. Crescendo, negli anni 50, Ridgway si fece una reputazione di ragazzo simpatico ma non propriamente brillante, avanzando le scuole superiori. I compagni di classe e i vicini di casa se lo ricordano come un ragazzo normale, gentile, quieto, sorridente e che non dava molto nell'occhio. Come studente era invece sotto la media rispetto agli altri, non che non fosse intelligente, ma imparava lentamente e leggeva male. Faticò un po' ma alla fine riuscì a diplomarsi. Anche con le ragazze non ebbe particolare fortuna. Una di esse ricorda di essere uscita una volta a vedere un film ma lui era un pessimo amante e non ci uscì più. Gary era un tipico adolescente con tutti i problemi e i complessi tipici dell'adolescenza, cercava di imitare i grandi, fumava sigarette, aveva l'acne, ogni tanto faceva scherzi e talvolta era anche maleducato. Nonostante tutte queste difficoltà, l'anno successivo, il 1970, fu un anno molto importante per Gary, perché incontrò quella che diventerà la sua prima moglie, Claudia Craig, una ragazza di un anno meno di lui. Claudia lo descrisse sessualmente normale e soddisfacente, tuttavia ebbe una tresca con un amico in comune mentre Gary era impegnato in un viaggio di sei mesi con la marina militare. A causa della scoperta del tradimento, i due divorziarono di comune accordo il 14 gennaio 1972. Successivamente Ridgway descrisse il comportamento di sua moglie mentre lui era fuori come quello di una puttana. Verso il finire del 1972, Ridgway conobbe quella che un anno dopo diventerà la sua seconda moglie, Marcia Vincelov. Tra di loro ci fu un colpo di fulmine e cominciarono a convivere quasi fin da subito, fino al 14 dicembre 1973, giorno del loro matrimonio. Più tardi, Maria Vincelov di Raker Ridgway la vedeva solo come un oggetto sessuale e una massaia, chiedendo spesso di fare sesso anale, sesso orale mentre stava guidando e preferendo fare sesso all'aperto, includendo una varietà di luoghi nella contea di King e in altri posti nei pressi del fiume Green. Ad ogni modo, con la nascita del loro figlio, Gary divenne fanaticamente religioso. Le cose andarono avanti così, in una relativa tranquillità, fino al 1980, quando la coppia cominciò a scricchiolare. Gary Ridgway e Marcia Vincelov si separarono e, nel maggio del 1981. È probabile che quel secondo matrimonio fallito, il fanatismo religioso e una certa sua propensione al sesso estremo, rappresentarono per Ridgway fattori di enorme stress che la ritrovata solitudine non fece altro che alimentare. Non mancò di fatti molto tempo prima che gli omicidi nei dintorni del Green River iniziassero. Gli omicidi sono moltissimi. Ben 48. La vicenda del Green River Killer iniziò ufficialmente il 15 agosto del 1982, quando un signore di 41 anni, si imbatte in una figura di donna di pelle nera che galleggiava ad un pelo sott'acqua mentre stava risalendo il fiume a bordo di un gommone. Voltandosi per raggiungere la riva, si accorse di trovarsi a fianco di un'altra donna nera e seminuda, morta. Come in un incubo, circondato da due cadaveri, nuotò fino a raggiungere riva in stato di sciocche, quando vicino a lui passò un uomo con due bambini in bicicletta, disse loro di chiamare subito la polizia. In un'area erbosa, a pochi metri dal fiume, stava un'altra ragazza morta, seminuda. La ragazza era stata strangolata con un paio di pantaloni annodati al collo e probabilmente, come stabilì in seguito il medico legale, aveva cercato di reagire perché mostrava segni di contusioni sia sulle braccia che sulle gambe. Tutte e tre le donne erano morte in seguito a strangolamento. La zona si rivelò essere una vera e propria discarica di cadaveri, in quanto in pochi giorni i cadaveri trovati nelle vicinanze erano saliti a cinque. La prima donna si chiamava Vendico Fielde ed era stata strangolata prima di essere gettata nel fiume l'8 luglio 1982. La seconda si chiamava Deborah Bonner e il suo cadavere fu trovato alcuni giorni dopo, completamente nudo, appoggiato ad un tronco sul Green River. Anche lei era stata strangolata ed uccisa il 25 luglio 1982. Le altre tre furono la trentenne prostituta Marcia Chapman, la diciassettenne prostituita Cinthia Indes e la sedicenne prostituita occasionale Opal Mills. Intanto il profiler John Douglas tese il suo primo profilo dell'assassino che secondo lui era un uomo sicuro di sé, di mezz'età, impulsivo e che probabilmente tornava sulle scene del crimine più volte. L'assassino, sempre secondo Douglas, aveva molta familiarità con l'area e infine, era probabile che si interessasse attivamente nel lavoro della polizia per sapere come procedevano le investigazioni. Ritornando al passato, c'è da segnalare la prima vittima di Ridgway che venne ritrovata casualmente solo il 21 marzo 1984 da un cane. Gli esami medico-legali stabilirono che la ragazza aveva intorno ai 15 anni ma non è stato possibile in nessun modo, a tutt'oggi, di identificarla. Lo stato dei suoi resti era veramente pessimo ed aveva anche il cranio rotto. Quello che si sa è che Ridgway ricordò di essere tornato sulla scena del crimine il giorno successivo al delitto, per fare sesso con il cadavere. La successiva vittima del Green River filerà ad essere ritrovata, dopo quelle trovate nel fiume, fu un'altra prostituta giovanissima. Giselle Lovorn, di 17 anni, di cui non si avevano più notizie da luglio. Il suo corpo venne ritrovato il 26 settembre 1982, da un motociclista che sentì un odore nauseabondo e decise di investigare, trovando infine il corpo della Lovorn, strangolata a morte con un paio di calzini da uomo. Il successivo macabro ritrovamento fu quello di Terry Milligan, una prostituta di 16 anni, che scomparve il 29 agosto 1982. La ragazza fu strangolata nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1982 e il giorno dopo Gary, manifestando ancora una perversione di tipo necrofilo, tornò sul luogo del delitto per avere un rapporto sessuale con il cadavere. Il corpo stava sviluppando il rigor mortis e il killer disse in seguito di esserne rimasto incuriosito, tanto da voler scattare varie foto del cadavere in una strana posizione con le gambe aperte e le ginocchia ricurve. La nona vittima del serial killer fu Mary Mehan, che venne uccisa il 15 febbraio 1982. Era giovane ed era al settimo mese di gravidanza, ma di questo a Ridgway non importò nulla. La fece salire sul suo pick-up e insieme si reccarono ai bordi di una bosco. Ridgway la convinse a scendere e a fare sesso all'aperto, cosa che lei sembrò accogliere favorevolmente. Giunti in una radura nel bosco, Mary gli disse però che gli avrebbe praticato solo sesso orale, probabilmente a causa del suo stato di gravidanza, cosa che fece arrabbiare notevolmente Ridgway. Lui disse di non sapere che era incinta, ma anche se lo avesse saputo l'avrebbe uccisa lo stesso. Dopodiché, utilizzando degli attrezzi che aveva sul pick-up, scavò una fossa e seppellì la vittima insieme al suo feto, morto con lei. 20 settembre 1982. Ridgway uccise la quindicenne Debra Estas strangolandola a morte. È la decima vittima del killer. Arrivò l'autunno del 1982 e con esso un nuovo omicidio di Ridgway. Linda Rule, 16 anni. Ridgway ricordò di essere andato con questa ragazza in una casa abbandonata vicino all'ospedale e poi di averla strangolata prendendola da dietro. Successivamente si divertì a dare fuoco ai capelli della giovane. Nel giro di poco il numero delle vittime salì a 16. Da notare, per capire con quanta rapidità agisse Ridgway in quel periodo, che tra il dicembre 1982 e l'aprile 1983, aveva già ucciso altre otto volte, mentre ancora gli inquirenti annaspavano nel buio. La diciassettesima vittima di Ridgway fu uccisa la vigilia di Natale, il 24 dicembre 1982, e si trattava ancora una volta di una prostituta. Colleen Brockman, una giovanissima ragazza di 15 anni, scappata di casa. Durante la confessione, Ridgway ricordò che la ragazza durante lo strangolamento lo implorò di lasciarla in vita, a quel punto Ridgway si alzò e finì di soffocarla schiacciandogli il piede sul collo, fino a che non esalò l'ultimo respiro. Con l'omicidio della ventiduesima vittima, il primo aprile 1984, Joe Lardin, un esperto di scene del crimine, ebbe modo di notare come tutta l'area intorno al cadavere denotava che l'uomo aveva agito con tutta calma, senza assolutamente farsi prendere dal panico, segno ormai di una grande disinvoltura nel commettere omicidi e di come commetterli. Con l'omicidio di Lisa Yatas, si chiuse il 1983, un anno infernale, in cui Ridgway uccise ben 41 ragazze. Nel frattempo era stata addirittura organizzata la Green River Task Force, nella quale parteciparvano un gran numero di poliziotti, FBI, vari detettivi e profiler. Quasi un piccolo esercito per cercare di fermare il folle assetato di sangue. Dopo l'omicidio di Chingy Smith, 43esima vittima del killer, successe qualcosa. Ridgway si fermò per ben due anni e mezzo perché era uno dei principali sospettati dalla Task Force. Persino Ted Bundy offrì il suo aiuto alla Task Force. Ma gli omicidi andarono avanti fino al 1991 raggiungendo il numero 48. Una vera e propria strage. Il modus operandi era sempre lo stesso. Le uccideva strangolandole e ritornava nei giorni successivi sul luogo dei delitti. Se c'era ancora della carne attaccata al cadavere, ci faceva sesso. Se ritrovava solo le ossa, se le portava a casa come souvenir. Con il progresso della scienza, si è potuto analizzare il DNA trovato sulle vittime. Ebbene, gli esemplari di sperma comparati con quello di uno dei sospetti dava risultato positivo, il sospetto era Gary Ridgway. La scoperta avvenne nel settembre del 2001 e fece piangere dalla commozione il detective David Reichert, dopo 20 anni che lavorava a quel caso. Dopo alcune altre investigazioni e riscontri, Ridgway venne arrestato il 30 novembre 2001, mentre stava tornando a casa dal lavoro. Nessuno riuscirà mai a capire il perché Gary iniziò ad uccidere. Qual era il muovente? Il 5 novembre 2003 iniziò la lunga confessione di Ridgway e, nel gennaio del 2004, venne condannato a 48 ergastoli, uno per ognuna delle sue vittime accertate.